ciao a tutti e benvenuti a un nuovo tutorial oggi vi presento un'altra palette di mia creazione che si chiama effetto vibrazione se volete potete scaricarla dal link che troverete nella pagina dove è caricato questo tutorial come già successo anche per le palette effetto molla vi faccio vedere rapidamente come fare a installarlo una volta scaricato questo è l'effetto vibrazione non dovete fare altro che trasferirlo all'interno della cartella script ui panels qui che sta dentro la cartella scripts la quale sta all'interno della cartella di after effects bene torniamo ad after effects la palette possiamo incastrarla dove vogliamo questa volta la incastriamo qui a destra a fianco della composizione questa palette è comoda soprattutto per creare animazioni casuali e ripetitive allora per fare qualche esempio usiamo un cerchio creato da noi quindi vado a cercare lo strumento per disegnare i cerchi entro dentro prendo lo strumento ellisse il colore rosso va benissimo il cerchio lo disegno a mano quindi mentre clicco e trascino aggiungo il tasto shift in modo tale da avere un cerchio perfetto e poi lascio andare prima il mouse e poi lo shift come sappiamo quando si disegna a mano uno shape layer l'anchor point non si va mai a posizionare precisamente al centro del disegno ma l'anchor point sta sempre al centro della composizione eccolo qui quindi rapidamente mettiamo l'anchor point al centro del cerchio usando la palette move anchor point che abbiamo già usato tante volte per fare questo basta che io clicco qui al centro del diagramma move anchor point e l'anchor point immediatamente si mette al centro del cerchio riprendo lo strumento selezione allora vediamo come utilizzare questa paletta innanzitutto si parla di numero di dimensioni per capirci meglio apriamo le proprietà base di questo livello quindi diamo nella sezione transform position scale rotation per capirci la position ad esempio a due dimensioni perché per definire la position ho bisogno di due coordinate la coordinata x e la coordinata y per la scala è uguale per definire la scala di un oggetto ho bisogno di sapere quant'è la sua larghezza e la sua altezza quindi le dimensioni della proprietà scala sono due la rotazione invece è una dimensione unica ho solo bisogno di sapere di quanti gradi è inclinato l'oggetto e quindi in questo caso mi serve solo un numero per definire la rotazione per l'opacità uguale ho un'unica dimensione e così via quindi per la posizione lasciamo il numero di dimensioni impostato su due che va bene così e poi dobbiamo concentrarci su questi due valori vibrazione al secondo e ampiezza allora le vibrazioni al secondo indica ogni quanto tempo il cerchio cambia posizione in questo momento è impostato 1 che significa che ogni secondo il cerchio cambia posizione e continua per tutta la durata della composizione ma di quanto si muove il cerchio all'interno della composizione si muove a seconda del numero che io ho imposto qui nel parametro ampiezza mettiamo un valore un po' più alto 200 200 significa che il cerchio non si allontanerà più di 200 pixel in ogni direzione ma starà all'interno di quell'area qui ok allora per applicare queste impostazioni che ho appena dato non devo fare altro che selezionare la proprietà qui voglio applicarle cioè la position ci clicco sopra position e poi faccio un click sul bottone applica ecco fatto a questo punto i parametri della position da azzurri diventano rossi che significa che è stata aggiunta una espressione all'interno della proprietà position per la precisione questa volta voglio farvela vedere la espressione è l'espressione wiggle molto conosciuta da chi usa after effects da molto tempo serve appunto per fare queste animazioni random però comunque a noi oggi non interessa capire il significato di queste istruzioni qui semplicemente ci interessa capire cosa succederà adesso al cerchio e per farlo facciamo una preview di qualche secondo faccio partire la preview e che succede il cerchio ogni secondo cambia posizione e la posizione che occupa è calcolata casualmente da after effects ma non si allontanerà mai più di 200 pixel in ogni direzione che ho stabilito io dando il valore ampiezza mi fermo se per esempio aumentassi questo 200 tipo 600 e per cambiare questi valori non devo fare altro che di nuovo selezionare position e cliccare di nuovo applica i vecchi valori verranno sovrascritti da quelli nuovi ok vediamo che succede adesso cambia la posizione sempre ogni secondo però questa volta si allontana di più dalla sua posizione iniziale se invece aumento questo valore 1 delle vibrazioni al secondo proviamo aumentarlo a 10 così vedremo bene la differenza applico di nuovo ecco qua 10 volte in un secondo cambia posizione ma non si allontanerà mai più di 600 pixel in ogni direzione ok e lo fa per tutta quanta la durata della composizione e vi faccio notare che non ci sono keyframe sulla proprietà position tutto avviene automaticamente bene adesso vediamo cosa possiamo cambiare di queste impostazioni dopo aver dato il numero di dimensioni sotto c'è anche la possibilità di stabilire quale delle dimensioni ha la vibrazione in questo caso tutte e due sia la x sia la y infatti si muove in tutte e due le direzioni destra sinistra alto basso ma se volessi farlo vibrare cioè muovere casualmente soltanto a sinistra e non in alto in basso basta che io disattivo la dimensione y facciamolo spengo il bottone y riapplico di nuovo e vedrete che adesso il cerchio vibrerà solo a sinistra e a destra proviamo ecco qua e sempre in questo caso non più di 600 pixel a destra o 600 pixel a sinistra stessa cosa se lo facessi sulla y e non la x proviamo ecco qua quindi molto semplice proviamo adesso ad applicare l'effetto vibrazione alla scala sempre a questo cerchio però prima disattiviamo l'effetto vibrazione alla position e per fare questo non devo fare altro che cliccare sull'orologio di position con il tasto alt premuto quindi premo alt clicco sull'orologio position i numeri vedete sono tornati azzurri che significa che non c'è più quella espressione applicata alla position adesso il cerchio è fermo concentriamoci sulla proprietà scala la seleziono riaccendo anche la x delle dimensioni dell'effetto vibrazione e magari cambiamo i valori facciamolo vibrare 5 volte al secondo e 600 è un po' troppo in questo caso perché sarebbe 600 per cento della scala quindi 6 volte forse è un po' troppo facciamo 100 per cento intanto proviamo applicare quindi succede proprio quello che sapevamo che sarebbe successo cioè la scala x e la scala y aumentano diminuiscono al massimo del 100 per cento però come potete notare la scala x e la scala y in questo caso sono indipendenti la larghezza e l'altezza cambiano sì ma ognuna indipendentemente dall'altra ecco che allora magari in questo caso potrebbe esserci utile accendere questo bottone qui a fianco le dimensioni cioè uniforma adesso lo accendo riapplico che succede in questo caso che la vibrazione sarà uguale uniforme appunto sia per la larghezza sia per l'altezza proviamo a lanciare quindi sempre vibra 5 volte al secondo con al massimo 100 per cento di grandezza in più o in meno ma in questo caso abbiamo specificato che la x e la y hanno lo stesso valore sono uniformi molto utile soprattutto appunto per fare vibrazioni sulla scala ok un'altra cosa come avete notato finora queste animazioni create dall'effetto vibrazione cominciano al tempo zero e non smettono più fino a 10 secondi ma se io volessi interrompere per esempio questa vibrazione avrei bisogno di poterla controllare ed ecco che in questo caso se io attivo questo pulsante qui a fianco all'ampiezza controlli e poi applico di nuovo l'effetto vibrazione così come è impostato adesso se vado nella finestra effect controls ho due proprietà che si chiamano vibrazioni e ampiezza che io posso gestire con dei keyframe per appunto variare questo effetto vibrazione al momento è continuo per tutta quanta la duata della composizione ma se io nella timeline nella sezione effects apro per esempio vibrazioni al secondo eccolo qua al momento ho impostato 5 come avevo impostato lì ma se per esempio io voglio che fino a un secondo la vibrazione sia zero ok e accendo l'orologio poi voglio che improvvisamente cominci a vibrare avanzo anche un solo frame e porto la vibrazione appunto di nuovo 5 vediamo cosa succede il primo secondo sta fermo poi comincia a vibrare e poi va avanti e se volessi anche farlo smettere di vibrare dopo un secondo non faccio altro che di nuovo aggiungere un keyframe qua cliccando sul bottone dei keyframe qui a sinistra della proprietà in modo che si aggiunge un keyframe dello stesso valore di quello precedente poi avanzo un altro frame e porto di nuovo a zero ok vediamo che succede quindi posso controllare come voglio io la vibrazione dell'oggetto quando comincia a vibrare quando smette di vibrare ma per fare questo quando applico l'effetto vibrazione devo ricordarmi di accendere la voce controlli in modo da avere i due controlli qua bene non ci resta altro che provare anche sulla rotazione così completiamo l'applicazione dell'effetto vibrazione alle proprietà base quindi eliminiamo il cerchio questa volta lo seleziono lo butto lo elimino e creiamo una specie di lancetta di orologio che può girare a sinistra e a destra quindi prendo il pennino e disegno qualcosa che possa sembrare una lancetta ecco qua facciamo in modo di mettere l'anchor point qui quindi in questo caso lo spostiamo a mano prendo lo strumento per spostare l'anchor point lo metto qui dove penso sia il perno di questa lancetta clicco il tasto R evidenzio la rotation e facciamo ruotare un po' a sinistra e a destra casualmente la lancetta vediamo che valori dargli allora innanzitutto quante dimensioni ha la rotazione? la rotazione ha una dimensione quindi la prima cosa da fare è impostare il numero corretto di dimensioni altrimenti poi dà un errore allora uniforma qui non ci servirebbe quindi lo disattivo e anche non voglio i controlli numero di vibrazione al secondo magari un po' meno di 5 facciamo 2 quindi 2 volte al secondo e l'ampiezza io direi che fosse un po' troppo facciamo 90 gradi quindi non scenderà al di sotto dell'angolo retto applica e vediamo che succede ecco quindi se volessi una lancetta che simula una misurazione di qualsiasi cosa con l'effetto vibrazione è un attimo farlo quindi questa palette effetto vibrazione vi può tornare utile soprattutto quando avete bisogno di creare rapidamente animazioni che si ripetono in continuazione ma in modo casuale e questo effetto vibrazione la potete applicare alla position, scale e rotation ma comunque la potete applicare a qualsiasi parametro di qualsiasi effetto quindi spero che vi possa essere utile per le vostre animazioni e per oggi è tutto ciao e ci vediamo alla prossima